Benvenuti a Excelsior News, oggi abbiamo con noi un scientifico d'Italia, Dr. Domenico Dallinico. Benvenuti al nostro canale. Grazie, grazie. Signor, volevo sapere sui ricercatori, cosa si tratta? Io ho lavorato in Italia sui ricercatori. Sono un ricercatore e normalmente ho lavorato per testare la bioactività di ricercatori di ricercatori sui cancer o sui sistema immunitario. Come si tratta questa medicina tradizionale dell'India, come Ayurveda e altre terapie? Penso che la medicina Ayurvedica è molto interessante, perché è una medicina antica che si tratta da tutta la popolazione per molti, molti centrii. Quindi è molto valido. E le planti medicinale usate per la medicina Ayurvedica che si tratta di realizzare. E ora, in le ultime decadze, queste planti medicinale sono anche testate per l'experimentazione. Quindi il loro valutio medicinale è validato da moderni biotecnologi. Quindi ci sono qui durante i ultimi due giorni. E cosa abbiamo visto in questo modo? E cosa senti, dove funziona la nostra ricerca, infrastruttura e ogni sistema? Differono da te? La principale differenza è l'ethnofarmacologia, quindi le planti medicinale in India sono centrile per la mantenzione di salute. è un livello. Nel mondo occidentale, in Italia, in Europa, hanno perduto la centralità, questa importanza perché del sviluppo della industria farmaceutica è una industria farmaceutica che permette di produrre di produrre di solo una molecola. Questa è la differenza principale. Qui le planti medicinale sono centrali per la vita e per le medici. Nel mondo occidentale sono, in qualche modo, complementari. Nel mondo occidentale hanno perduto la importanza che hanno avuto nel passato. Hai trovato un luogo per miglioramento sulle nostre ricerca? Non ho capito la domanda. Hai sentito che abbiamo ancora qualcosa di più per migliorare la nostra ricerca? sicuro, sicuro. Sì, sai, l'improvamento è per tutto, tutto il mondo. Quindi credo che la ricerca sta avvicinando molto veloce. ma potete sempre migliorare. Le tecnologie si sviluppano molto veloce. Quindi, in India, in Asia, in il mondo occidentale abbiamo bisogno di ottenere nuove tecnologie per migliorare il lavoro di ricerca. Grazie, signor, per aver guardato la informazione valutante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti